Avete presente Oppo Find X5 Pro? Ma certo che ce l'avete presente perché lo abbiamo recensito solo pochi giorni fa Oggi torniamo a parlare della linea Find X5 ma con il Find X5, quello che dà nome alla serie di quest'anno dei flagship Oppo Questa è la versione liscia, non è il modello Pro ma quest'anno si presenta con un form factor, con un hardware che davvero ha ben poco da invidiare a quello del Find X5 Pro Costa anche parecchio di meno quindi è davvero lecito chiedersi se non sia meglio acquistare il Find X5 che non il Find X5 Pro Cerco di rispondervi all'interno di questa recensione Utilizzare Oppo Find X5 è stato veramente molto simile ad utilizzare il Find X5 Pro, ve lo devo dire subito Anche se ci sono delle differenze importanti dentro e fuori In particolare vi voglio parlare subito, subito la mettiamo lì via, di una delle cose che non mi è piaciuta affatto di questo smartphone Cioè questa back cover è bellissimo questo, penso sia vetro, satinato che però si sporca incredibilmente Infatti con un uso normale, quello che faccio con qualsiasi altro smartphone, questo qui si è ricoperto di questi aloni marroncini neri che non so neanche da dove vengano In pochissimo tempo, in due giorni era già così Il Find X5 Pro sarà un magnete d'impronte perché ha un vetro lucido ma questo fenomeno non si realizza Tuttavia pur non essendo uno smartphone piccolo in valore assoluto è sicuramente più maneggevole del Find X5 Pro Infatti mi sono trovato molto meglio ad utilizzarlo con una mano sola anche perché oltre che più piccolo è anche un po' più stretto E questo per le mie mani che sono abbastanza grandi si è tradotto in una maggiore comodità appunto nell'utilizzo spensierato Senza dover digitare con due dita magari quando sto scrivendo un messaggio Piccolo ma non piccolissimo dicevo perché questo qui è pur sempre uno schermo AMOLED da 6,55 pollici Quindi per nulla piccolo La risoluzione Full HD Plus 2400 x 1080 pixel Il rapporto di schermo è esagerato 92,2% La frequenza di aggiornamento anche qui come sul modello Pro arriva a 120 Hz E come sul modello Pro troviamo una protezione da urti cadute e graffi garantita dal Corning Gorilla Glass Victus L'ultima versione dei vetri Corning Ciò che cambia rispetto al Pro è il processore In realtà però non troviamo né un processore di altra marca ma di pari generazione Ma troviamo il Qualcomm Snapdragon 888 quindi il processore top di gamma dello scorso anno Che ragazzi è inutile che ve lo stia qui a dire va benissimo e per i task quotidiani è praticamente sovrapponibile allo Snapdragon 8 Gen 1 Che invece troviamo sul Pro non noterete nessuna concreta differenza La noterete solo nei benchmark Ma tranquilli il Find X5 va esattamente come il Find X5 Pro Questa differenza di processore ormai come vediamo praticamente su tutti gli smartphone è totalmente trascurabile È un top di gamma anche lui e va bene esattamente come il modello più costoso Sul fronte invece della RAM qui abbiamo 8 GB di RAM che però sono espandibili Ora vi chiederete come è possibile Beh la ColorOS già da diverso tempo include una funzione che vi permette di aggiungere 2, 3 o 5 GB di RAM Recuperandoli direttamente dalla ROM quindi dalla memoria di archiviazione che qui è di 256 GB La ColorOS riesce a gestire quindi in modo dinamico RAM e ROM Andando a potenziare la possibilità di avere più app in contemporanea aperte sullo smartphone Quando ne abbiamo bisogno appunto togliendo un po' di spazio Utilizzando come cache potremmo dire direttamente lo spazio su disco che ha il telefono Quindi veramente eccezionale questa funzione Però qui troviamo anche la nuova NPU Mari Silicon X Che è stata la caratteristica principale della serie Find X5 Come sappiamo è una NPU che grosso modo fa il suo solamente per quanto riguarda la fotocamera E quindi ne parleremo meglio dopo Sul fronte della connettività segnaliamo la presenza del connettore USB-C Per la ricarica e sincronizzazione del Wi-Fi 6 Del Bluetooth 5.2, dell'NFC e del GPS GLONASS, Galileo, tutto quello che volete Si tratta chiaramente anche di uno smartphone 5G, dual SIM Quindi avete la possibilità di utilizzare il cellulare per navigare in rete con la massima velocità possibile Anche quando non avete il Wi-Fi a disposizione Non vi ho parlato dei sensori biometrici ma sono esattamente gli stessi Di Find X5 Pro quindi sensore di impronte integrato sotto lo schermo E anche riconoscimento del volto bidimensionale Basato solo su fotocamera per quanto riguarda appunto lo sblocco Quando volete stare più comodi senza toccare il telefono A bordo ovviamente c'è la ColorOS di cui vi ho già parlato Tra l'altro sono già arrivati due aggiornamenti da quando ho in test il dispositivo L'ultimo lo devo ancora fare Vediamo in diretta cosa è cambiato E ammazza un botto di roba Aggiungi le funzioni nascondi notifiche Ottimizzata la compatibilità con gli adattatori Ottimizzati gli effetti della fotocamera Migliorata la rete, bluetooth Insomma un bel aggiornamento Fatelo quando e se acquisterete il vostro Oppo Find X5 Ora passiamo alla fotocamera Come sapete qui abbiamo un modulo con tre sensori Il principale è una grandangolare da 50 megapixel Sempre da 50 megapixel e anche la ultra wide E poi abbiamo un teleobiettivo da 13 megapixel Il sensore principale è quello da 50 megapixel e in entrambi i casi il Sony MX766 In grado di tirare fuori veramente delle ottime foto e soprattutto grazie alla partnership con Hasselblad C'è una calibrazione del colore veramente identica tra queste due fotocamere Questo agevola tanto quando fate uno shooting fotografico e utilizzate la ultra wide e la wide Diverso è il discorso teleobiettivo che dal punto di vista del colore è un po' meno saturo È un po' meno profondo nella gamma cromatica Purtroppo lì diciamo che si poteva fare di più ma è proprio diverso il sensore Invece il bello della wide e della ultra wide è proprio quello di condividere il sensore Esattamente come sul Find X5 Pro Quindi questo permette di avere gli stessi dettagli Pochissima distorsione nella ultra wide Resta comunque più apprezzabile l'ottica grandangolare Perché con quella tirate fuori veramente dei capolavori Potete utilizzarla per gli sfocati naturali È vero che c'è anche la modalità macro sulla ultra wide Però è un modulo fotocamera molto molto completo Esattamente come quello di Find X5 Pro Per quanto riguarda invece i video Ottima qualità Possiamo anche beneficiare della stabilizzazione ottica su entrambi i sensori E comunque anche di quella elettronica Poi c'è lo steady shot Che è una caratteristica di Oppo Che veramente vi rende le riprese come se il telefono fosse su un gimbal C'è la modalità notte nei video Ci sono una serie di effetti di intelligenza artificiale avanzati Per potenziare in automatico Mentre noi registriamo il video La riproduzione fedele dei colori È davvero un'ottima fotocamera Quella di Find X5 Paragonabile strettamente a quella del Find X5 Pro I selfie vengono bene grazie al sensore da 32 megapixel Però diciamo ho visto smartphone Che riuscivano a tirare fuori dei selfie migliori Nulla di grave Comunque le foto sono usabili in ambito social Senza farsi troppi problemi Parliamo però adesso di batteria Come al solito Oppo stupisce non solo Per i 4800 mAh Del modulo batteria integrato In questa scocca così sottile Del Find X5 Pro Ma anche per l'autonomia che poi riesce ad offrire Infatti nei miei test ho completato agevolmente Sempre una giornata e mezzo di utilizzo Senza rinunciare a nulla Se avessi rinunciato a qualcosina Attivato la modalità di risparmio Sarei arrivato facilmente anche a due giorni di autonomia Questo chiaramente con il mio utilizzo Con il vostro utilizzo Questi dati possono cambiare Sia in positivo che in negativo Sul fronte della ricarica abbiamo la SuperVoc a 80W E l'AirVoc a 30W Rispettivamente la ricarica con cavo Con l'alimentatore Incluso in confezione Che troviamo sul Find X5 E la ricarica wireless rapida Di Oppo Quindi il Find X5 gode Delle stesse velocità di ricarica Che può raggiungere il Find X5 Pro Arrivando alle conclusioni Tra Oppo Find X5 e Oppo Find X5 Pro Ballano all'incirca 300€ Dal mio punto di vista Nell'esperienza che ho avuto Nei giorni passati con Find X5 Non ho avuto grandi rimpianti Di quello che era il Find X5 Pro Modello che consiglierei Soltanto a chi vuole un telefono Dall'aspetto un po' più premium E con uno schermo un po' più grande Ma per il resto La piattaforma è veramente la stessa Lo Snapdragon 888 Dello scorso anno Va esattamente come l'Ottogen 1 Non avrete grandi differenze Qui abbiamo sempre il refresh rate Dell'Oppo Find X5 Pro Quindi è veramente forse lui Lo smartphone Oppo top di gamma Da acquistare quest'anno 1000€ Che non sono pochi Ma l'Oppo Find X5 Pro Richiede 1300€ Che sono ancora di più Quindi dal mio punto di vista Lui è un telefono molto a fuoco È un top di gamma Quindi ha il prezzo dei top di gamma Però va esattamente O quasi Come il modello Che costa ancora di più Quindi davvero non ha senso Secondo me a questo punto Valutare il Pro Se potete e riuscite Ad accontentarvi Lui è sicuramente Un'ottima opzione Nel mondo Android Tra i top di gamma 2022 Comunque se volete Saperne di più Su Oppo Find X5 Vi lascio in descrizione La nostra recensione completa Così potete approfondire Qualche aspetto E noi ci rivediamo molto presto In un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.